anni della presenza lì. Jelam, adesso a lei invece che cosa sta succedendo? A Herat i talebani hanno cominciato a catturare delle persone. O sentiamo bene la traduzione simultanea o sentiamo lui in inglese e lo traduco io direttamente. Si sente malissimo. Ci sono dei combattimenti, molti combattimenti. E di mattina erano ai cancelli, alle porte della città. La gente era veramente scioccata e non pensava che questo sarebbe successo. Un altro giorno ci svegliamo la mattina e vedemmo dei fucili americani. Io ricordo dalla mia infanzia, dalle prime volte che loro presero il paese. Io avevo collaborato con le truppe italiane dal 2008-2009. In quell'epoca per me era molto difficile. Penso che adesso la situazione sia diventando ancora più difficile. perché i talebani non sono persone logiche. Noi non sappiamo cosa succede con loro. Lei, in questo momento, teme per la sua vita? Negli ultimi dieci giorni ho cominciato a nascondermi. in una casa, in altre case, non nella mia. La gente come me, che ha collaborato con gli stranieri, per loro è una cosa inaccettabile e quindi ci dobbiamo nascondere. Ma non solo per me, ma anche per l'altra gente della città è uno shock. Quindi i talebani non sono persone logiche. Lei adesso come pensa di riuscire a muoversi per uscire da lì? In qualche modo, non ho molta speranza. Sto aspettando. Spero nella cooperazione italiana, perché lavoravo con loro. Lavoravo con la AGVC, un gruppo di volontari civili. Lavoravo con loro per implementare dei progetti per la cooperazione italiana. Certo, e adesso lei rischia di pagare esattamente per questo, aver lavorato con loro e insieme a noi. È esattamente così. Noi ci auguriamo che questi ponti aerei, che questa possibilità di uscita si realizzi. Anche perché queste persone, le persone come Jailan, veramente sono state fondamentali. Anche negli anni in cui, appunto, c'erano i nostri militari che vivevano a Erat. Generale Giorgio Battisti dovrebbe essere in collegamento con noi. Grazie.